C'è un pubblico speciale per lo spettacolo di Natale organizzato ieri sera dal comando provinciale dei Carabinieri al Teatro Massimo. Nei palchi ci sono i ragazzi del liceo Danilo Dolci, di Brancaccio, della parrocchia Roccella, dello Sperone, del Don Ugo di Marzo, dell'associazione Baitic Baitic dello Zen, a testimonianza che la legalità è un percorso da fare insieme, fianco a fianco. Questa serata è praticamente una serata nel quale l'arma dei Carabinieri incontra le autorità cittadine, incontra i familiari che ci stanno vicino durante tutto l'anno, quindi le vogliamo in un certo senso ringraziare. Incontriamo il personale dell'associazione nazionale Carabinieri, le vittime del dovere e i familiari dei nostri decorati. In più, quest'anno, come nelle due edizioni precedenti, abbiamo invitato anche dei ragazzi che provengono da quartieri difficili, quindi ragazzi che frequentano le scuole e a cui offriamo l'opportunità di poter vedere questo spettacolo. Si crea un contatto con il quale i ragazzi arrivano ad accettare, diciamo così, quelle che sono le attività delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, quindi è importantissimo creare questo legame con la popolazione, in particolare con questi ragazzi. La festa al massimo insieme alle famiglie dei Carabinieri, in platea anche tanti bambini e i parenti delle vittime del dovere. Sul palco la fanfara del dodicesimo reggimento dei Carabinieri, diretta dal logotenente Paolo Sena. Poi l'esibizione del tenore, il vicebrigatiere Roberto Lenoci. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco, chiamati dai padroni di casa, Eliana Chiavetta e Sasa Salvaggio, dall'artista Fabio Ingrassia, che ha disegnato in tempo reale un ritratto del generale della chiesa, all'attore Maurizio Bologna. Ai comici Matranga e Minafo, poi la sorpresa, l'arrivo di Massimo Lopez in scena in questi giorni al Teatro Al Massimo, con un omaggio alla musica eterna di Frank Sinatra. I Carabinieri sono un presidio della legalità e lo sono in maniera capillare, quindi sono un patrimonio del paese. Ho vissuto tanti momenti accanto a loro, anche quando ero Presidente del Senato, e so bene il senso di attaccamento ai valori, non solo della legalità, ma ai valori della patria. Credo che la cooperazione istituzionale sia una caratteristica che attraversa questa città, almeno con sicurezza, nel periodo in cui ne ho diretta contezza. Questo ha moltiplicato e reso sinergici gli sforzi sul piano della sicurezza, sul piano degli interventi, sul piano della lotta per la legalità. Conclusioni affidate al generale Giovanni Truglio, comandante interregionale Culquaber per la Sicilia e la Calabria. Oh, veolezza, no tepide molli, lauree dolci del suolo natale. Grazie a tutti.